Amici torno Wenderler ma oggi voglio fare una puntata speciale voglio anticiparvi questo è un'anteprima di quello che succederà nel 2017 perché il caro buon Paolo Noes mi ha girato delle voci tramite whatsapp e cosa ho fatto le ho usate per fare gli scherzi telefonici lui si chiama Orazio e cerca un certo Roberto siamo pronti andiamo testiamo subito questo nuovo personaggio per il 2017 ma al solito lo dico già il numero non te lo do ma stiamo bastando chiamate 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 bella 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 pronto Roberto sono Orazio ti prego di pagare la rata penultima pronto e poi ne manca ancora un'altra così abbiamo finito questa giostra perché non è possibile ma vai a fangulo cammino è stato stronzo di merda e robè sa che continuiamo non capisce Roberto pronto tessa di cazzo un'altra volta perché non si concepisce questa tua mancanza ma vai a fangulo a te con l'attenzione di tua madre Roberto dice che il messaggio non è arrivato tessero un culo porca m**** rimostanzi tua perché domani io te fra Roma faccia venire la finanza basta buona serata ma se cosa sapete che cazzo vuoi? concludo la fa via da una mignotta stronzo a te con la puttana di tua madre buona serata un culo a mamma da stare un culo a quella coccola di tua madre e paga per Dio buona serata Roberto sono Orazio ti prego di pagare la rata penultima ma chi parla? e poi ne manca ancora un'altra così abbiamo finito questa giostra perché non è possibile ogni volta devo fare 8000 telefonate capisci? e poi ne manca in culo tessa di cazzo un'altra volta ma perché mangia i topi? pronto Roberto visto che il messaggio non è arrivato ancora mi devi pagare ma i dati coglioni porca m**** e pagia per Dio perché domani io te fra Roma buona serata grazie aia 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 pronto aia Roberto sono Orazio ti prego di pagare la rata penultima e poi ne manca ancora un'altra così abbiamo finito questa giostra perché non è possibile ogni volta devo fare 8000 telefonate capisci? però mo vengo di persona a far casino stai tranquillo vieni vieni sti sto aspettando eeeh Robè sa che continuiamo a non capisse ce ne mancano due non mi fa tanto tempo da cazzare tutte le volte cazzarola è un dovere chiudilo sto dovere porca m**** eeeh Dio no porca m**** dimmi Dio b**** parco non mi fa tanto tempo mi posso dire non mi fa tanto tempo non mi fa tanto tempo non mi fa tanto tempo cazzarola è un dovere chiudi ma porca m**** non mi fa tanto tempo non mi fa tanto tempo non mi fa tanto tempo visto che il messaggio non è arrivato ancora mi devi pagare porca m**** porca m**** porca m**** no porca m**** mi fa tanto tempo e paga per te io va a pagare il c*** buonasera 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 anche se non so se è uguale a te grazie bello è bello razio è bello bello